salve a tutti ragazzi bentorni sul canale di fuori rossi col vostro domi e oggi in compagnia di lui come sempre ovviamente perché lui quando ci sono box da aprire è presente esattamente non posso fare altrimenti infatti soprattutto dopo che oggi abbiamo qua uno dei box più golosi del momento esattamente infatti visto che è molto coloso sono sei sono sei di power of elements di cui c'è tanta bellissima roba ragazzi tra cui i nuovi supporti per l'esorcista lo splite abbiamo i tier lamentos c'è un bordello di roba e le carte neos per chi importa diciamo a noi un po di meno forse a te di più un po di più esatto magari per il mazzo errore diciamo che forse probabilmente faremo vedere qualcosa esattamente bene ragazzi quindi aspettate di anche tante profile da questo box perché e ve lo ripeterò come ho il fatto per dimension forse che ogni volta post dimension forse dirò post power of elements quindi sarà una cosa un tormentone continuo va bene io direi di incominciare allora prendiamo tu non serve allora andiamo a aprire il primo box che qua tutto bello pronto l'abbiamo aspettati con ansia inizia sarebbe aspettato anche ringrazio sempre da chi le ho presi che me ne ha fattereva di giorno stesso l'uscita quindi io direi di andare allora butta la carta inutile allora siamo qua come sempre di una metà alle l'altra e inizio ovviamente gli onori di casa si fa sempre chi ospita allora andiamo con la prima busta ragazzi allora abbiamo mary melphys nuovo sincro perché melfi cominciò con i melfi over fusion brand e poi abbiamo prima super task dragon non so che cos'è è un tizio che si spostava lo sneak pick avevi vinto bravi anche benissimo non ho potuto partire purtroppo lo sneak però qua abbiamo una nuova carta per i morfotronici una carta amazement e il gadget gamer sempre per lei molto nonico e abbiamo il nuovo sushi ragazzi se volete farmi il mazzu sushi è il momento il conto sarà salato è molto salato ok una nuova carta sprite la mogia rapida o sprite red buona è un altro sincro di melfi brand che prendete expulsion una nuova carta brand del molto buona è la loris lady of la mente della parte di quelle serie di carte tipo rapoli lilith malis alice tutte queste cose qua poi mi mesi se lefanti lefante sushi sushi il nuovo sincro morfotronico che carino è un tizio con un uccello un uccello ricordate ha sempre le ali fa sempre prossima busta terza busta abbiamo un'altra brand esclusione la prima ti era la mente merlin abbiamo melfi pinni mi fa un po impressione chiaramente se è venisse una magia ricca comunque ok io ne vuole una siamo a posto poi nel prossimo profilo ricca non questa morfotronici e questo è molto carino ragazzi ve lo ricordo è molto simpatico per essere una buona mi ricordo che ci sono sempre comuni che sono overpower esattamente allora overfusion un verno sylph è il livello 3 queste qua sono carte nuove del la signorina carrot tier laments crime una delle trappole tier laments e ausa la prima ultra questa qua serve a cercare mostri terra wow e la ricca comune che quella la che praticamente fa giocare il mazzo attorno a nibiru la terreno dei gothi che è il nuovo archetipo pesce terrors of the overroute una trappola molto simpatica è il nuovo supporto mochi 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 ma come serviamo un supporto mochi 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 esattamente no cosa ci riserva la prima ultra uscita allora tier laments crime nel film un altro sincrono metteramente metanoise sprite red e elementario spirit of neos uno spirit di neos è bellissimo e niente resto resto cose allora passiamo avanti yes allora merly abbiamo visto gramma burr spoiler letteralmente essere mio yes verno sylph verno sylph e il nuovo power tool dragon lo volevo volevi non l'hai trovato e poi un po di comuni e il nuovo sincro dei fish pure che qua mi pare c'è la secret la secret pure di quello la dell'acqua è un sincro 10 secret allora overfusion melfi pinny di nuovo il coniglio banzolante c'è una fusione ragazzi ho visto hai suggest crash che è la prima fusione dai ti ha la lament è ultra è ultra è ultra poi abbiamo ricca abbiamo mochi mochi e creo insomma che cos'è sto coso e qua un'altra cosa molto probiosa comunque abbiamo trovato la prima della mentos benissimo speriamo di trovarne altre allora sprite pixies metanoise sprites mesher non parlo però perché sennò hamnis è la verno sylph corolla che è la magia dei verno sylph e altre come davvero cani no oppure questa ragazze carina a questo per il lana anzi pedor che porterò la profilo ovviamente così vedrete come è diventato un po più simpatico diciamo anche se ha le carte proibite per cui possa tornare a essere forte come prima vabbè meglio meglio che alcune carte che erano buone in quel mazzo sono proibite sotto un certo punto di vista sì però il mazzo è buono anche ora ragazzi casomai non gli resteranno tante carte in mano però fa sempre la sua figura vabbè il tanto questo lo vedrai prossimamente allora abbiamo qua verus il and abbiamo digital gaming che era la merlin e ravenus vendred e la scarclaw bellino utile utile morfotronic da no non supporto sempre per i morfotronici pure lui e poi questo per i pesci per i signori pesci spaziali è sempre a terreno del mostri e comunque gli interiore segreto ancora ancora niente l'ultima volta che l'ho detto e ora esce allora crime merli sully e jamming scatter fusion la fusione nuova dei cavalieri gemma parlando di collegia ma qua c'è uno visto dopo i cavaliere io si sono un pochino fissato con i cavaliere gemma ma solo un pochino il minimo indispensabile alla prossima brusta sprite e pizzi smelty mail welly cross keeper poi sprite e c'è una fusione spright carot parlando di quali eri gemma esatta e poi abbiamo double dust tornato sempre la ricca princess mofotronic convert e trao il somma interessante allora ragazzi un po di rare segrete spazio di come un box non c'è una rara segreta io ogni cosa ora hanno paccato come scusi verno sicilide brand in central dogmatica red la brilliant rose molto brillante bellissima la un'ultra delle tier la mente ovviamente essenziale un pochettino questa vale un pochettino la mettiamo da parte e il resto e si lo so hai messo le tue manacce sprite red sprite gamma è sempre una carta di veneno e ce l'ha apri mamma ho visto prima la segreta ragazzi sono impazzito sono impazzito è una cosa buona è una cosa buona porco cane ragazzi abbiamo trovato ultimi slayer e la carta di apollusa che ci ha disegnato apollusa che è buonissima buonissima la prima rara segreta è stata trovata i signori e signori ed è pure buona scusate sono impazzito perché la prima rara segreta è buonissima esattamente solo questa vale più di 40 euro esattamente quindi bene partiamo bene cosa avevamo detto luigi che uscivano 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 speriamo che ne ne scano altre volle and read sull'ec il tuner 2 dei goti e se deve fare sincrono durante il turno dell'avversario che vi ricordo il mazzetto acqua non è male carino supportato e porterò qualcosa ovviamente se ho la possibilità prossima busta allora abbiamo brand ed espulsione overfusion overfusion me la sogno la notte nuovo orsetto lavatore dei fata ovviamente poi ok c'è un sincro e già cresce devo stare attento perché faccio vedere già i spoiler spoiler di nuovo un altro power tol dragon e poi abbiamo sempre il uccello di goti chain la lucertolina e il gadget gamer allora chi era la mentos chi era la mentos ice jade verno sifilide brilliant rose e la verno sifilide livello 4 super che bellino con l'orso lavatore con l'orso lavatore che mi dice che cazzo svegliati porca puttana è ora di dormire è ora di dormire comunque ragazzi sto box mi sta dando soddisfazione al momento per essere il primo allora abbiamo venivus of the fields il coniglio pasquale raven vendred poi ti era la mentos merit ti era la mentos crime o albaz de ascenuo albax gg commenta che tu sei brand allora questo qui non è esattamente buono però ci fa piacere vedere albaz che è ancora vivo e vegeto per la storia per la sua storia si almeno orfotronic e dark bonder dark bonder qualcosa qualcosa di strano è apparso allora siamo già nella seconda metà del box vediamo che sorprese ci sono uscite più super che altro esatto il nuovo super terion questa funziona con i rettile non so se è buona per il mazzo però è bellino magari ci si fa un pinzellino ricordando abbiamo detto super ed è uscita la super prossima busta abbiamo di nuovo mary melphys tiara la mentos evanins tiara la mentos metanois melphys walli e ultra terion irregular bellino questo è molto buono per continuare nello streak per le carte terion mokey mokey e amassed attraction e terrors of overwrought e nuovo sincro di pesce ovviamente lo facciamo vedere meglio è molto carino e coccoloso 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 sinceramente mi scanterei metanois vendred gummaburst ice jade uuuuuh lo splite elf buona buona queste ultra diciamo che sono andate abbastanza bene che uno mi serve pure a me questo rossa vedi vedi è apposta che è buono per risuscitare in genere in generale livelli due orami due certamente no ma comunque l'altra segreta è ancora sconosciuta vedremo se sarà qua digit in gemmin melphys pinni e abbiamo tiara la mentos ulieck e poi allora vediamo allora è un mostro con effetto 2100 ed è il terion impress all'asia un altro e poi abbiamo l'altra roba comunque ragazzi ne ho un po' veloce perché non totalmente veloce perché abbiamo sempre comunque sei box sei box da aprire quindi non è che son pick esattamente allora carota orsetto coniglio rosa e tanuki è super eh si è super e altre robe vabbè aspetta sono rimasti due bustini nel primo box ragazzi la rara segreta è qua l'ultima rara segreta dovrebbe essere qui in teoria miseria quando box allora waste and chain ice jace creation brillante rose l'ossetto lavatore e una magia che cosa sarà e anyway la magia sempre degli eroi ricordiamo degli eroi ultra niente hai tu la rara segreta bene vediamo che cos'è eh ragazzi mi sento emozionato perchè sappiamo per certo che ce l'ha la segreta allora per nusipilide solieck per nusipilide calma vai pienissimo ora allora vediamo dal fondo un mostro cosa può essere oh eh 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 e niente c'è soltanto una secret in questa in questo box e come può essere eeeh può essere purtroppo può capitare e proprio a noi doveva capitare e proprio a noi doveva capitare anzi no potremmo controllare una cosa di verità metti da parte tutte le ultra che abbiamo trovato qua sta succedendo qualcosa in diretta strana tranquilli ragazzi è tutto tutta una norma forse eh no mi dispiaga inizio è un pacco di rara segreta ci hanno spacchettato torniamo dopo per il problema di pubblicità il problema di pubblicità ti 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 penso di capire per cosa è successo c'è un ultra in più c'è un ultra in più quindi in questo box abbiamo capitato cinque ultra al posto di quattro e una sola rara segreta vabbè vabbè cose strane della vita cose strane della vita però ragazzi non è andata per niente male io non mi lamento ti immagini erale l'ultra in più della segreta è un po' di scandaloso così sarebbe scandaloso effettivamente va bene andiamo con l'altro box va ragazzi non è un dispiacere però è brutto dire uno sa che può avere due rare segrete però vabbè sono cose che succedono ragazzi tranquilli sono problemi del mestiere cosa è scandaloso cosa è scandaloso vero però è divertente andando capendo queste cose a me in compagnia per dire ma che cavolo così facciamo vedere alle persone che può capitare speriamo che non capitia poi però è capitato a me a noi anzi allora andiamo va tiranamento sprite sprite carota e una carota sprite gamma e la prima ultra paces un nuovo sport sempre per i pesci e così e poi abbiamo un'altra robetta che è sempre sincropesce un altro pesce più pesci quello te lo sogni il pescetto io vado un pochino più veloce un altro ultra che siamo qua questo mi può essere così il link 1 degli scareclaw questo è molto molto buono anche nel peritribiricata andiamo con la prossima cross keeper nelfi 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 overfusion sprite viffy una trappola una trattolina e la esorcista returnia bellissima al signor domi ovviamente serviva ovviamente in generale ma Marta non la vede Marta? la mia... la Marta tiarlament troppo matica tiarlament e uuuuuh Siren siiii al signor domi ovviamente serviva anche se non costa chissà che però è meglio trovarla non posso cobrinarla allora venunusig tiarlamenta sevenings ice jace creation e venunis e poi allora è un mostro 1800 e un altro albaz e poi abbiamo l'altra roba l'altra roba speed up speed up che siamo qua 10.000 anni di video viene fuori ahahahah però con l'ultima con la quinta devi sempre andare piano e non si finire e va bene prossima allora brillante rose l'orso lavatore il tealamento scrym melfi pinny e un mostro 15005 uuuuuh uuuuuh caracca carmen bellissimi ragazzi va dai la faccio vedere è bellissima molto molto figata questa potrebbe essere utile un giorno è molto come si dice sottovalutata come al momento è sottovalutata allora vediamo cosa ci riserva il futuro un altro sprite jet nice che lui è super e lui è super meno male perchè ti dovevi spaventare se non lo era prossima busto allora sprite nation tealamentis metanois reanos vendred sprite gamma e allora è una è una un rituale un rituale vabbè è una super ragazzi niente di scandaloso niente di scandaloso io mi spaventavo usare un ultra no 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 finora mmm vediamo quella pierlements mmm ha punk jam extreme session la nuova terreno dei punk la nuova terreno dei punk molto molto buono la cosa la il sincro dei punk invece era uscito super super quindi è probabile che si trovi prima o poi parlando di super che non si trovano overfusion Mary 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 me ne serviva una io non pretendevo due vabbè te le conservi dico va alla fine non fanno male usciti pochettino brand branded digit jamming walley pinni e il grand test dragon e vabbè un altro grand test di dragon sei un grand test di dragon sei un grand test di dragon prossima allora abbiamo revenant vendred sprite pizzi melfi walley e poi abbiamo un altro sincro melfi e poi abbiamo una magia e eh la nuova giara la nuova giara per i pesci ultra davvero carina anche se ogni giara che fanno la fanno sempre più inquietante esattamente allora bello sifilide marli vendred e uuuu la seconda rhino heart vabbè il signor domi danza della vittoria danza della vittoria oh carusi questa qua non è che costa pochino esatto vabbè nuova bustina abbiamo la carota abbiamo il red abbiamo sprite musher venilus e poi una magia engage neo space engage neo spezio sempre nuova carta neos e poi abbiamo le altre carte ora è sceluta da neos quello stampato sulla bustina speriamo di no si vede e uh melfiing staring non male che è super sta cosa si esatto è un po' brutta ragazzi la bustina quella difficile non si vergogni digit gemminin overfusion orso lavatore orso e allora ragazzi è una magia un'altra magia e terminus corolla 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 che carina con il palco che c'è vicino qua non si dicono queste cose no non si dico eh va bene io ti dico lo stesso oh mio dio ho distrutto questa bustina non ti vuole più bene ah chi è eh eh voilà terion va bene adesso ho abbastanza terion abbastanza terion ah non si apre ok allora brand dogmatica coniglio pasquale la venus vendred perchè io nomino le carte in modo strano bellante rosse ooooo lo sprite blu ragazzi danza della vittoria danza della vittoria porta 2 allora vai 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 non ci insisti non ci insisti non sono state belle sono state belle e ci sono piaciute vediamo come vanno le altre il nuovo neos me lo sogno la notte te lo sognerai la notte no mi dispiace no scusa giusto che mi sogno la notte un'altra cosa che non dico te lo schien mary melfis cross creeper mentos moise e poi abbiamo l'altra l'altra retornia vabbè a me servono non è che almeno due servono pure tre queste bustine ricordiamo alla gente che ancora ci sono altre box eh yeah end wave end wave end wave un'ultima bustina un'ultima vediamo ragazzi in realtà questo video era lunghissimo però non ce ne frega niente è l'importante ora magari spidappiamo ancora un po' melfie walley carota digit gaming e poi pinny e poi di nuovo il rituale che non mi piace poveretto che ti ha fatto di male è nato è nato è nato l'hanno disegnato rabaigli jade rose jade jamming un'altra pozione dei calarii di ge Eggman Bene ragazzi, possiamo andare al terzo box, che ancora, io ne vedo troppi, è tortuosa. Allora, nel frattempo ho sposto queste cose qui qua. Via, non serve a niente, è solo carta iniziale. Bene. No, non è vero, poi mi servirà per portarmi le carte. Esatto. Allora, andiamo con la prima bustina del nuovo box. Crime, branded, sulix. Vernulis e poi, è una magia, la terreno dei punk. E il resto. E il resto è storia. Ma il resto è comune. Il resto è comune. Allora, per lo Sivini e le jamming. Un elfetto, bello, ci piace questo. E ragazzi, questi box stanno soddisfazioni immense. Sto piangendo. No, non piangere. Wally. Vernulis, Crosskeeper, Metanoise. È una magia. Splite Starter, ragazzi. È una magia degli Splite. Che bello. Ragazzi, sta andando benissimo. La roba sta uscendo. Yes. Non si fa pregare. Non si fa pregare. Vediamo. Io lo tu ti fai pregare. Io ti faccio pregare. Anyway. Sognatelo la notte, questa cosa. È una cosa di Neos che lo segnalo per sempre. Tu attiri ero, io ci posso parire. Sprite Pizzi. Ice Jet Creation. Terra Lamentos, Terra Lamentos Crime. Allora, è un mostro. 1500. È un tizio strano. È un tizio con l'antigra sciaboli. Prozza è cattiva. Dice che c'è uno di fuoco. Allora. Overfusion. Scareclaw. Super dei Scareclaw. Straddle. Straddle. Rossini. In un certo senso, però male che questi box non sono in italiano. Branded. Perché? Perché hanno nomi strani in italiano. In effetti sì. Branded. Explosion. Una magia. E la vera. Sifiridae. Vabbè, siamo arrivati a tre con questo. A posto. Let's go. Che voglio... Tanto il supporto lo dovremo usare nel Naturia. Ecco. Appunto. La seconda Sharen. E il Domi è contento. Se ce la terreno sono pure contento. Almeno una. Allora, DigiC Gaming. Melfi, Wally. Pinny. Terra Lamentos Spoonie. E... Prima era la segreta. Era la segreta, sì. Ma questa era una delle segrete deludenti. Vabbè, anzi, meglio... E poi il resto. Vabbè. Vabbè, ragazzi. Come in Dimension Force, non è che tutte le segrete erano nobili. Questa è la prima, se non sbaglio. Sì, la prima. La prima della segreta. Vediamo. Del terzo box. Del toro. Ora va a finire con il primo che non ce l'era la segreta. No, speriamo di no. Returni. A posto. A push. Returni a posto. Se esce la quarta, spacco la testa Luigi. Spread carota. Spirit Gamma. Cross Creeper. E abbiamo il sincro dei Punk, ragazzi. Gem Dragon Drive. Bellissimo. Sono bellissimi. Sono tutti stilosi. Yes. E' anche molto, molto forte. Infatti, si poteva pensare che poteva essere Ultra. Invece l'hanno fatto super. Perché c'era troppa roba buona in questo box. Ma c'è troppa. Un'altra. Moray. Ok, se volevo mi serviva. Sì, esatto. Sto guardando quell'ultimo Slayer Luigi l'ha posizionato. Mi guardo felice. Guardami. Era l'unica secret in quel box, ma almeno sono stata buona. Sì. Coniglio Pasquale. Over Fusion. Sprite Pizza. Venue su. Sprite Pizza. Ok. E' un matrimatio circolare. Questo non era uscito. Ancora non era uscito. Una delle migliori superi di questo box. Che rende il matrimatio competitivo. E voilà! Neos. Ne è usciti tre spiriti. Lo spirito sia con te. Esatto. Ho il suo lavatore. Merit. Revenu, Vendred. Wallet. E' una fusione. Garuda, Wingful Life. Wings of Resonant Life. Questa è una fusione molto buona. E' buonissima, non buona. Infatti, è salita di prezzo. Ancora il box non era manco uscito e già era salita di prezzo. Ne sono felicissimo. E siamo a tre. Vabbè, non mi lamento. Non ci si dà. Mi dico, non la devo ordinare se mi serve l'altra. Questa bustina la sento dura. Non si apre. E si apre. Ragazzi, la bustina si ribella a noi. Aspettate. Io sono cazzo. Devo fare il cattivo con la bustina. Niente. Melfis. Sprite Red. Sprite Smasher. Suic. Un mostro. 1.5-200. E di nuovo il tizio con la tigra di denti e sciabola. E l'altra roba. E l'altra. E il resto delle robe. Tu e lei proprio apretta a banana. Esattamente. Perché a me le banane piacciono. Qualcuno può prendere qua a intendere. Tuner dei goti. L'hai detto con una certa euferia. Tipo, che fanno. Digit Gaming. Olso lavatore. Branded. E una trappola. Oh, un'altra Returnia. A quattro, va bene, sì. Returnia in te. Returnia in te. Quelle, Massimo, si mettono in vendita. Oh, la terza. La terza? È al posto. È al posto. Abbiamo trovato tutte le shading che servivano. Te l'ho detto. Le tere la Mentos mi stanno uscendo. E che è strano, questo bustino. Sì, sono alcune tagliate strane. E qui hanno tagliate strane. Come From the Past che hanno tutte le carte del taglio in quella maniera. Mamma mia. Cross Creeper. Wall-E. Ragazzi, c'è la stessa era la segreta, non lo sia su box. Ma sti box sono su Baru Baracca. Che strani. Oh, Gio. Che cosa strana. La stessa era la segreta. Per far capire comunque che, cioè, abbiamo capito dei box un po' particolari, signore e signori. Io non è che mi sto lamentando. No, no, infatti dico. Oh, Gemini Quartz. La nuova Super Gemini. Questa no, era uscita manco. Perché ti immagini c'è la terza era la segreta. Capitano cose strane. Sprite Carrot, Murphy Pinny, Ice Jade e Engage Neostase. E altra roba. E altra roba. Qua. Anche qua tagliata. Va bene, va bene. Spirito di Neos. Niente ragazzi, questo box è stato stranissimo. È stato strano. Due secreti uguali. Andiamo con l'altro. Ti apro tutto. Numero 4. Già siamo al 4. Eh, già siamo al 4. È un po' triste. Triste, ma è la verità. La cura è semplice. Aspetta un attimo. Facciamo un po' di pulizia. Butti via la cosina. Non devo buttarlo. Andiamo. Perché se è bucino è sempre più duro. Vendred. Expulsion. Wally. Melfi. Ma sempre attaccati sti due. Un mostro. Loris e Lelementos. Si lamentano troppo le ragazze. A qual è? Io te l'ho nominato. L'hai nominato, l'hai trovato. L'ultra è la fusione del Neos. Uniglio di Pasqua. Sprite Thread. Sprite Masher. Crime. Una magia. Ultimate Slayer. Ma io che ti avevo detto? C'è l'altro? 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 Vabbè, non ero io. Vabbè, siamo a quota 2. Vediamo. E il tizio. La tigre ti vuole bene. Esatto. La tigre ti vuole morte. Lui ci rifiuta il mosso. Skelet K, Digit Gaming, Sprite Gamma, Olso Lavatore e Scatter Fusion. Scatter Fusion. E il ventaglio. E il ventaglio. Bene, bene. Il box è cominciato bene, devo dire, signori e signori. È una storia grande. Sempre il tizio del gotto. È gotissimo. È gotismo. È branded in central, venilus, ramen in hundred, brillante rosse, eh? Brillante rosse, eh? Una magia. Scratch costume. Struggle. Io ce l'ho con le magie. Eh, ce l'hai con le magie? Ah, perché se ne trova un sacco qua. Sì, ma a me sono uscite troppe magie. Un'altra magia. Overfusion, King, Carota, Venilus e... Eh, sincro... Eh, beh, era normale, era lui. Ora lui, ora, quello dei punk. Sono loro due, mi pare che sono di rarità. E devi sapere più oltre se non sbaglio o sì? Erno Spirit, prendo... Uh, Perfusion, Ice Blade e... Sì, infatti, parlando di sincro punk... Parlando di sincro punk... Vabbè, almeno se mi serviva ora, non ce ne sono due. Era la Mentos Merit, Brillante Rose, Rosso Lavatore, Ravenos... Eh, una fusione. Che è la fusione dei tavoli di Gemma. Speravo di era la Mentos. Eh, va bene, dai. Ci si accontenta. Si gode. Mi si accontenta cosa? Si dice. Guarda come ti guardano. È bruttissimo. È bruttissimo. È bruttissimo. Guardano male. È bruttissimo. Allora, vediamo. Sprite Pizzi. Pindi. Sprite Pizza. Non, la pizza dopo. Dopo, dopo. Brand Expulsion. E... Favorite Contact. Questa non era uscita. Non era uscita. Non era uscita. Sì. Questa è pure forte, teoricamente. Ok. Per Neos, ovviamente. Per Neos, ovviamente. Perché noi siamo razzisti. No. Perché, certo, se c'è disegnato Neos è solo per Neos. Ovviamente. Un altro. Ultra degli Skracklaw. Link 1. Via. Vabbè, non mi è piaciuto il sito segreto, ma vabbè. Eh, vabbè. Skracklaw Crime. Branded. Skrack. E un'altra volta è Synchro Punk. Synchro Punk. Vabbè, vuolevi un Synchro Punk? Ora ce l'hai. Ora ce l'hai. A bizzesse. Engage in Eospace. L'ho vista 40 volte. Vabbè, le vedremo a Pantelite. Ma sono... Ma no, queste... Sono strane queste bustine. L'ho capito già da un po'. Non dico che sono... And Wave. Non dico che sono... Che non sono... Le bustine sono strane. Sì, è vero. Let's go. Sono tipo... Oh, ops. Catturazione strana. Esatto. Paces. Così ti stai in Paces. Sprite Pizzi. Ice Jade. Tirolamentos. E c'è qualcosa... No, questo è molto in fondo. E... Uuuuh. Bello. Guarda che bella. Ragazzi, non sto dicendo niente. Sono felicissimo. Esatto. Sti box sono belli. Wally. Per una volta l'hai trovato tu. La Digi dice no comment Sprite Red Digit Gaming E un'altra la Loris E il resto Quello che vedo Lei apri a vent'anni Mi sembra Io faccio il reclamo alla Konami Per una segreta non presente Ricca con con Che io amo le ricca Tiramento Skelet Penultima bustina Sprite Gamma Cross Keeper E il Tuner Il Tuner Dei Godi Sono strani Ultima bustina Per questo box E Jam Session Ok Box numero 5 5 Come 5 deals No Comunque skip box Sono di una partita strana Decisante Non dico che fanno schifo Però Uno si ha fatto skip Vediamo cosa ci riserva Qua intanto tiara la Mentos Carota Berus La Mentos Merit Rice Blue Number 2 Mi sembra che posso montare questo card Eh veramente Sti cazzo Ha E meno male che più di una copia di carta non se ne trovava Non è vero No no In senso Che c'era poco probabilità Ah ok No Sto parlando del gufo Del gufo Il gufone No ragazzi Vi spiego perché c'è qualcuno Il gufo diceva Eh ma valla a trovare l'ultima slayer Valla a trovare Dei segreti Quelli buoni Eh invece ragazzi Si hanno sempre soddisfazioni Ve lo dice uno Che lo sta spacchettando tanto Sprite pizzi E I tanuki E' brutto E' un tanuki E' un tanuki E' un tanuki molto Tu tanuki? Io non tanuko Ma questa era brutta Ragazzi non l'ascoltate Shhh Ho fatto vita di niente Oh Lei è troppo veloce Troppo veloce Ormai Almeno la suspense Della quinta tata La dobbiamo dare Esatto Allora Pinni Sprite mesher Brand escursion E' un mosso E' un sincro Power tullo Un power tullo dragon Tullio E' molto tullio Molto tullio Allora E Te l'ho detto Che ne vedremo tante Ne vedremo tante Ne vedremo ancora di più No La bustina De sciamminata ragazzi Aspettate La recuperiamo Attenzione Attenzione Ok Recuperata Tialamentos Venilus Wally E' un altro Garuda 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 è buono Bello Garuda C'è un Garuda Garuda Garudizzo No non si Garudizzi Per favore Garudizzo E' il numero 2 E' il numero 2 Numero 2 Numero 2 Le carte di Nemos Le vendiamo Le diamo alle persone a cui piacciono Venilus Cross Creeper Tralamentus Metanois Pixies Eeeh Quartz Però è bellina L'immagine È molto carina L'immagine La signorina Quarza Quarzosa Quarzosa Circular E' circolare Così se in caso qualcuno si vuole fare il match Siamo quasi a posto Sì infatti HHS Creation Terlamentus Avenis Terlamentus Crime Branded E' un mostro 1500 E' la tigre Il tigrezzo Il tigrato La tigre sciabola Verrà Il baruconico Luigi Speriamo di no No Almeno è un sincrono E' punk I punk I punk Sono impuntiti Ah non si apre Io ce l'ho con le bustine dure Vended Pinny Evenis Cross Creeper Eeeh Il terzo E' siamo azzare Dai ragazzi No sto coso no Il terzo di sto coso Eh vabbè Si mette in vendita Si mette in vendita Tante cose Qualcuno lo comprerà Immagino Il nuovo Fast E' la signorina E' la seconda La segreta E' uscita pure Quindi Non ne aspettiamo altre A meno che non ci sia Una Starlight E Scorpio Trader Magari ci sono Starlight Magari un po' Bambi Eeeh Potrebbe Come la ultima sleglia Era Starlight E io me ne vado Magari 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 Terreno ripang Terreno ripang T'immagino Se l'ultima slayer In quella maniera E noi tutti A posto A posto Teoricamente Se non abbiamo trovato La secret lada Qualche altra parte Dovrebbe pure essere Qualche altra parte Realmente Scala E' un space Engage Quindi Engage No fuck Nei box Che non ci amano Dobbentissimo Probabilmente Non si sa Scatterfusion Ice Jade Venirosis Branded Merly E' un link Sprite Help 3 E non è che cosa Le evoco pure Esatto Il gigantic sprite Bonus Sì Bonus Bonus Mi ero dimenticato La sua esistenza Esatto E' ultra Sì E' ultra Lei ce li ha? Non li sono ordinati Però se mi metteresti Non mi dispi Crime Crime Melfis Evenins Metanoise E Punk Jugging Dragon Drive Jugging Dragon Drive Che nome fico? Eh Distruzione di Di fronte hanno cambiato il postione Eh Nei 4 Allora Signor Ho le ultime due postine Di questo box Sprite Red Sprite Mashers Overfusion Pin E' una magia 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 Ce l'abbiamo con le magie Oggi Veloce 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 E' Mostro per non si finire Ok Va bene Va bene Prenda l'ultimo box Lo apri L'ultimo box E' arrivato Cosa troveremo qui? Quale secret ci Ci aspettano? Oppure magari Una starlight Oppure la terza era la segreta Che non abbiamo trovato Oppure la terza era la segreta Cioè Che non abbiamo trovato Nel primo box Perché se sono Della stessa partita Entri Quella era la segreta E fin da qualche altra parte Esattamente Lo scopriremo solo vivendo Vai Jeff Creation Melfi Flower Digit Game E Tiranamentos Mary E E un mostro E Pacis E Paciotto Paciotto Visto come sono brutte Quando sono due Eh sì Io rido Io rido Io rido Io rido Stasera Io sbazzo In me faccio Ragazzi tranquilli I miei discorsi Sono un po' Per quella persona Sempre Enos Pizzi Walli Crosscreeper E Un'altra magia Enway 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 Tutti lamenti No E chi si dovrebbe lamentare Qui Melfi Ma pensando Di uscire Solo 5 anni segreti Di uscire Un bordello Sì Vabbè Tralasciamo Non è uscita Neanche una magia Di Neos Sprite carrot Sprite red Il signor Domi Non è dispiaciuto Al riguardo Direi Non lo dire Ancora rimane L'ultima Vabbè Vabbè Un altro E-seed Ci manca Guarda Ingrid In your space Parlando di Neos Parlando di Neos Andiamo Velocini Un po' Ragazzi Il video durerà Però Casomai Metterò Un divisore Per primo Bok Secondo Bok Terzo E cose varie Ho il fusion Ho il suo lavatore E di nuovo Il suffi Il golf Fuffi Se non uscita Ancora Quel sincro L'anno nuovo Ancora uscita E beh Dai Non ci lamentiamo Perché Se vedi sincro Sono solo 3 Loris Loris Si lamenta Che si lamenta Ice Jade Fizz Remus Vendred Merlin 1400 2004 E il grande taschio Il taschio dragon La taschetta La taschetta La fiaschetta La fiaschetta Mmm Mmm Scatterfusion Scatterfusion Ok Andiamo Il resto Mento Crime Mary Melfis Evening Metanoise E 2015 E E Dio Interion E solo Interion E solo Interion Una certa Enfasi Una certa Enfasi Oh Scherco Lo strato Allora Melfi Walli Sprite Smasher Digit Gaming Melfi Pini 202 Oh Lei non è riuscita Ragazzi Bellina Bene Ci piace Ci sta Ci sta Alla fine Mettiamo tutte le carte Le facciamo vedere Ovviamente Come sempre Le sistemano per bene E niente Lui Mi sta un po' Sulle scavole Allora Te la mente Sclui Venilus E i Jade Brillantros Sprite Jet E il terzo Questo è buono Forse è ancora il quarto Vabbè Poi lo vedremo Ora Lo vedremo Lo vedrò Omolo Comunque si è formata La pila Vabbè direi Un'altra magia Ricca Se esce la quarta Ultima Slaje Ma ne va Chi lo sa Corso lavatore Sprite Red Ravenous Grand Sfusion 15500 La quarts La quarts Sto quarts È un quarts Yes È una trappola Quella è la mia Siamo arrivati a tre E vabbè Capita 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 Mary Melfis Mio Pasquale Mosher Crime È una trappola Questa è carina Questa sì Vabbè La bella La segreta Non è che La dici Ce la posso fare Ok Non si vergogna Carusi La terza La segreta Dov'era finita? Era finita Era qui Vedi Non ci hanno packato Non ci hanno packato Ritiro la denuncia Ritiriamo la denuncia Non ci mangi Ora c'era pure la Starlight Me ne vado a casa Ma scusate Sono già a casa Sì È già a casa HitGaming SpriteGum Granded Incentral Nice E Scart Fusion La Scart Fusion Io direi ragazzi Che mi piace No Non ci si lamenta Non ci si lamenta A parte Di quel cazzo Di Ziggs Vabbè Un'ultima bussina Nell'ultima box Ragazzi La Brillant Rose Tiana Mentos Cross Creeper Vabbè ormai si è visto Vabbè il Tanuki Mi schifo Il Tanuki Il Tanuki Delle Series Beh ragazzi Partendo dalle Secret Abbiamo trovato Che abbiamo accumulato Naturalmente Tre del Signorino Asciurino Che brutto Tre della Magia Di Apollusa Che non ci dispiace Per niente Due Della Kurikara Incarnate Una Dracutopia Nauron Una Della Primeral Planet Pearl Reino E due Signorini Blu Quindi Abbastanza bene Bellissime Con l'area segreta Ci è andata Molto Molto Bello Per noi Oltre Invece Abbiamo trovato Una signorina Sifilide Una fusione Ineos Due Lictart Un Gigantic Sprite Una Kitkallos Due Reinoheart Tre Paches Un Solo Starter Tre Favorite Contact Una Usa Un Irregular Due Garura Due Mureo Veveris E Tre Elfenti Elf E Questo è Quanto Poi Altre Super Di Note Abbiamo Trovato Tre Sprite Jet Tre Shiren Anzi Quattro Dire Riturnia Abbiamo Trovato Terreno De Ric Abbiamo Trovato Un bel Po Di Foglio Foglio Rossi Ci vediamo Con i prossimi Video Ciao Ragazzi A presto